la Corte Costituzionale, Giancarlo Coraggio, ascoltate questa intervista. È un grande piacere conoscerla, il nuovo Presidente della Corte Costituzionale, Presidente Giancarlo Coraggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei per avermi rivolto a questo invito, non solo, ma per essere anche venuto in Corte, e quindi sono io che le do il benvenuto qui da noi, in questo magnifico, in questo splendido palazzo. Veramente magnifico. Cercheremo di applicare le fattispecie della nostra Costituzione al drammatico momento che stiamo vivendo, un momento veramente drammatico. Qualcuno l'ha paragonato a una guerra, è possibile che sia un paragone fattibile questa pandemia con la guerra? Da un punto di vista tecnico-costituzionale certamente no, perché la Costituzione, all'articolo 78, prevede espressamente la possibilità di dichiarare lo Stato di guerra e quindi l'attribuzione di poteri straordinari al Governo. Non prevede nulla a proposito dell'emergenza. Quindi rientriamo nella situazione che per quanto eccezionale deve essere gestita tuttavia con gli strumenti ordinari di cui il Parlamento, il Governo e in genere le istituzioni dispongono. Quindi dal punto di vista giuridico no, però certo dal punto di vista proprio delle sensazioni che si vivono, pensiamo solo alla compressione dei diritti che stiamo vivendo, non uscire di casa a termini come il coprifuoco. In questo senso forse è paragonabile all'esperienza drammatica di una guerra? Non c'è dubbio, ma soprattutto pensiamo ai morti, migliaia di morti abbiamo avuto e abbiamo tuttora decine di morti al giorno, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista sostanziale e psicologico non c'è dubbio che il paragone non è del tutto avventato. E allora bisogna vedere se la Costituzione e l'organizzazione che noi ci siamo dati regge a momenti come questo. Partiamo dalla salute, no? L'articolo 32. La salute viene prima di tutto anche per la Costituzione, è un diritto che sovrasta quello di tutti gli altri. Viene in mente che paesi di carattere autoritario hanno risolto il problema, pensiamo alla Cina. Cioè se uno dice, beh, per la salute si può fare tutto e dovete subire queste costrizioni, così risolviamo il problema. Indubbiamente la dittatura ha la possibilità di prendere decisioni in modo più rapido e più semplice, perché non deve confrontarsi, non deve dibattere, non deve far fronte ad obiezioni e considerazioni che possano proporre soluzioni diverse. Ma proprio per questo è anche più facile che sbagli. E tutto sommato l'esperienza della Cina ci dice che errori li ha commessi e come anche la Cina, specialmente all'inizio. Le democrazie hanno maggiore difficoltà nel decidere, maggiore lentezza, ma alla lunga gli strumenti della democrazia sono non meno efficaci e forti di quelli delle dittature. La salute può cancellare altri diritti? Qui entriamo in un campo che è tipico della Corte Costituzionale. Anzitutto la salute può avere, ha dei limiti? Mi piacerebbe rispondere no, la salute non ha limiti, ma farei un'affermazione sbagliata. In tutti i paesi, compresa l'Italia, il diritto alla salute si deve confrontare con i limiti di bilancio, ad esempio. Con una precisazione importante, però, è lo sottolineo. E quando siamo in presenza di quelli che dal legislatore vengono definiti LEA, cioè livelli essenziali di assistenza, lì allora non c'è limite di bilancio che tenga. Lo Stato e le Regioni, ciascuno per la sua parte, hanno il dovere di prestare quella assistenza che la legge e la Costituzione richiedono. Quindi devono assicurare un minimo. Un minimo è inderogabile. Quanto ai rapporti con gli altri diritti, la Corte si è occupata più volte di questo aspetto, cioè conflitto fra più diritti fondamentali. Per la prima volta si è occupato in una sentenza che riguarda l'Ilva di Taranto. Il redattore era un autorevole, autorevolissimo, costituzionalista, Gaetano Silvestri, il quale ha usato un'espressione che poi è entrata nel nostro gergo, quello secondo cui non esistono diritti tiranni, non esistono diritti che prevalgono incondizionatamente sugli altri. Sempre si pone un problema di bilanciamento fra i vari diritti, di trovare una soluzione ragionevole e proporzionata fra i vari diritti in gioco. Contemperare. In termini concreti si tratta di stabilire se la limitazione imposta ad un diritto per la tutela di un altro diritto sia proporzionale a queste esigenze di tutela. E perdoni l'ingenuità di alcune domande, ma la salute non è una questione mia. Cioè, ditemi cosa rischio e poi decido io se rischiare. La salute in parte è un diritto individuale, ma in realtà i suoi riflessi sono sicuramente generali e sociali, specialmente in un caso come questo di una pandemia. Cioè la salute del singolo è legata indissolubilmente alla salute della collettività. E allora il vaccino? Il vaccino fa bene, obblighiamo tutti a farlo. Forse è un po' semplice come affermazione. In linea di principio, la nostra Costituzione, l'articolo 32, prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori. Ma come lei comprende è una scelta fortemente incisiva sulla libertà individuale, sulla libertà dei cittadini. Una scelta che indubbiamente ha una componente di tipo politico, di discrezionalità politica. Ma il politico, sia esso il legislatore, il governo o qualsiasi altra istituzione, non può prescindere dai dati epidemiologici, dall'efficacia del vaccino, dalla mancanza di rischi nell'utilizzo del vaccino e quindi dal parere degli organi sanitari competenti, sia nazionali che sovranazionali. Come ogni decisione politica, c'è una componente di discrezionalità, ma la discrezionalità è controllabile. Deve rispondere a criteri di ragionevolezza. Nel momento in cui è il pubblico che fa il vaccino, il pubblico garantisce che non fa male? Certamente. Il pubblico deve garantire che non fa male. Se dovesse invece accadere che per qualsiasi ragione si verifichino danni a chi accetta di fare il vaccino, c'è la responsabilità dello Stato, la responsabilità che si traduce in diritto all'esercimento del danno, l'abbiamo detto, non soltanto per i vaccini obbligatori o comunque per i trattamenti sanitari obbligatori, ma anche per quelli fortemente consigliati. E questa è una pronuncia della Corte Costituzionale. Senta, sulla base dei valori che rappresenta la Costituzione, si può desumere chi deve essere vaccinato prima? I giovani, gli anziani, le persone con determinate patologie, i criteri con cui fare la classifica dei vaccinati possono essere desunti dalla Costituzione? Io direi di sì. Un criterio base c'è, ed è quello indicato dall'articolo 2, cioè il criterio della solidarietà, cioè la solidarietà sociale fra i cittadini. È il principio cardine del nostro sistema costituzionale. La solidarietà che cosa significa? La solidarietà nei confronti di coloro che sono in prima linea, quindi medici, operatori sanitari. La solidarietà nei confronti dei più deboli e dei più fragili, nei confronti di tutti coloro che sono per qualsiasi ragione obbligati ad una convivenza. Si pensi alle RSA, ma anche alle prigioni. Quindi chi ne ha più bisogno, fondamentalmente. Chi ne ha più bisogno. Allora, vediamo altri articoli. Articolo 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornarli liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Allora, qua siamo davanti a delle limitazioni. Torniamo a dire il termine coprifuoco, già solo quello. In che misura incide la pandemia sui diritti sanciti dalla Costituzione? Nel caso della libertà di muoversi, il Movimento? Qui ci troviamo di fronte a un caso classico di conflitto fra due diritti, tutti e due fondamentali. Il diritto alla libertà di circolazione e il diritto alla salute. Qual è la soluzione? La soluzione è nella proporzionalità di cui parlavo prima. Cioè è necessario che questa limitazione alla libertà di circolazione, che è pesante, grave, di cui tutti abbiamo sofferto, cioè non è una cosa marginale, secondaria, molto seria, deve trovare una forte giustificazione delle esigenze di tutela della salute. Il giudice ultimo di questa proporzionalità immagino sia la Corte, no? Quindi può essere che ci troveremo a dover giudicare dei provvedimenti che già abbiamo in qualche misura, ai quali abbiamo in qualche misura ottemperato. Cioè magari si scoprirà che potevamo uscire di casa di più, ma in seguito, dopo che abbiamo subito la limitazione. Eh, questo è vero. Tenga presente che la Corte non può intervenire di propria iniziativa nel nostro ordinamento costituzionale. Quindi la Corte deve attendere che qualcuno porti la questione al suo esame. Quindi il rischio, o meglio, la possibilità che la questione arrivi alla Corte con una certa distanza di tempo è inevitabile. Ma questo è un po' previsto dalla Costituzione. Allora, il diritto allo studio, centrale in questi giorni, anche la manifestazione degli studenti, vogliono tornare a scuola, vogliono tornare a scuola in condizioni di garanzia, intanto studiano quelli che possono da casa, articolo 34, la scuola è aperta a tutti. Noi siamo stati quelli che hanno chiuso prima e chiuso per più tempo le scuole. Questo che riflessioni comporta sul fronte dei diritti degli italiani a studiare? Il diritto allo studio presenta caratteristiche profondamente diverse dal diritto, per esempio, alla circolazione. Perché? Perché il diritto alla circolazione viene esercitato, ictnunk direi, istantaneamente, e istantaneamente può essere leso. Certo. Il diritto allo studio... Voglio uscire di casa, esco. Non posso uscire... Il diritto allo studio, invece, ha una sua proiezione ultradecennale, cioè lunghissima, cosa voglio dire in concreto, che non sempre la chiusura delle scuole per alcuni giorni, alcune settimane, di per sé comporta una lesione del diritto allo studio. Ben diverso sarebbe se invece questa chiusura dovesse prolungarsi fino al punto da causare la perdita di un intero anno scolastico o di un anno accademico. Allora sì, ci sarebbe una lesione grave di un diritto che invece è fondamentale. Bisogna fare del tutto per garantire l'apertura. C'è stata qualche giorno fa una lettera sul Corriere della Sera di una ragazza, 16enne, Gloria, a parte scritta benissimo. Qual è il problema che lei vede? Il problema dei trasporti. Dico che la scuola fa di tutto per garantirmi la distanza, ma io per andare a scuola debbo usare un mezzo affollatissimo. Il problema dei trasporti è stato il collo di bottiglia di fronte al quale si sono trovate le istituzioni e che non sempre sono riusciti a gestire adeguatamente, debbo dire purtroppo. Le è sembrato che davanti al problema dei trasporti alla fine si sia scelto di far pagare i più giovani perché era più semplice. In fondo chiudere una scuola è immediato, i giovani, devo dire, anche all'occhio più cinico non votano e allora forse alla fine si è sacrificato la parte più debole del tavolo. Devo dire che purtroppo è anche la mia sensazione. Cioè mi pare che si sia affrontato il tema della scuola, devo dire però soprattutto per le scuole di grado più elevato, invece per esempio per i miei nipoti la scuola è proseguita abbastanza regolarmente, in genere, gli elementari, le scuole medie, eccetera. Detto questo, effettivamente c'è stata questa sottovalutazione, quasi che si potesse trattare il problema dell'apertura e chiusura della scuola al pari di tutti gli altri. Avrebbe meritato e merita un'attenzione tutta particolare. Senta Presidente, articolo 41, libertà di impresa, l'iniziativa economica privata è libera e invece qua stiamo dicendo oggi chiudete le serrande, questo locale non si apre, oggi non potete svolgere la libertà di impresa. Sì, in effetti è una grave e forte limitazione, cioè in un certo senso mi pare che la sua domanda abbia un retro pensiero, a dire la verità, cioè che diritto dobbiamo riconoscere a coloro che subiscono questa limitazione? Il ristoro previsto dal legislatore si può ritenere adeguato? Pari al danno che si riceveva? Eh, danno, ecco, lei mette un po' il dito sulla piaga, cioè l'alternativa forse necessaria non sarebbe stata l'essarcimento del danno o quantomeno una indennità? Quindi la questione è complessa. Mi devo rifare ancora una volta alla Costituzione. Che cosa dice l'articolo 41? Oltre che l'attività di impresa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, anche che non deve recar danno alla sicurezza. Quindi è previsto. E sempre si può trovare nella Costituzione qualche riferimento che è utile per affrontare i problemi attuali. Quindi una limitazione legata alla tutela della sicurezza è possibile. Esistono le condizioni, nel nostro caso, per affermare che vi era un'esigenza di sicurezza? Alla domanda vi devo fermare. Perché è sicuramente possibile che la questione arrivi alla Corte Costituzionale e quindi io sarò uno dei 15 a decidere. Lei sarà seduto là e deciderete. E una conseguenza però sgradevole ma che non possiamo non affrontare della libertà di impresa è forse anche la libertà di licenziare quando se ne ha la necessità. E anche quella è una libertà che viene impedita in questo momento. E' vero, libertà di impresa è importantissima in un paese in cui non c'è il comunismo e che vuole quindi ispirarsi ai principi della democrazia liberale sia pure con i limiti dello Stato sociale, eccetera. Ma c'è dall'altra parte il diritto al lavoro. Il diritto al lavoro, addirittura citato il lavoro nel primo articolo della Costituzione, è poi richiamato nell'articolo 4, cioè tra i principi fondamentali. Quindi metterla semplicemente, in termini semplici non è possibile, c'è la libertà di impresa, ergo non si può imporre. Come al solito, e ripeto, inevitabilmente torno sullo stesso problema, abbiamo un problema di limiti, di quantità, di durata e una tutela forte del lavoro è indispensabile. Se questa tutela deve essere trovata nei termini scelti dal legislatore e se sia il metodo costituzionalmente corretto, è tutto da verificare. Quanto ci possiamo indebitare? In fondo noi, prendendo in carico dei debiti, non creiamo dei danni immediati a noi stessi, non solo, ma soprattutto alle persone che questi soldi vi dovranno restituire, di nuovo, le generazioni future. L'equità infra-generazionale, dicono alcune sentenze. Ancora una volta, come giudice costituzionale, non posso che partire dalla Costituzione, quindi l'articolo 81. L'articolo 81 è stato riscritto recentemente, nel 2012, e come regola fondamentale stabilisce che il bilancio deve garantire l'equilibrio fra le entrate e le spese. Però prevede anche espressamente la possibilità di indebitamento. naturalmente in presenza di condizioni date, uno è il ciclo, ma l'altro anche al verificarsi di eventi eccezionali. Questo sicuramente, nessuno può negare che sia un evento eccezionale. Ma aggiunge, e questo è importante nella prospettiva che lei ha indicato, quella delle generazioni future, anche la sostenibilità. Sostenibilità significa, anzitutto, credibilità delle istituzioni e degli Stati che si indebitano, cioè debbano ispirare fiducia agli investitori, ma soprattutto questa fiducia si guadagna con una buona utilizzazione delle risorse così recuperate con il debitamento. Se queste somme sono investite, se gli investimenti favoriscono, determinano un aumento della ricchezza nazionale, quindi un aumento del lavoro, le future generazioni avranno la possibilità di restituire il debito. Una cosa è indebitarsi per comprare un gelato, una cosa per comprare una vanga e lavorare. Sì, è fondamentale che ci siano degli investimenti che aumentino la ricchezza nazionale. Questo veramente rende sostenibile il debito per le generazioni future. Altrimenti si troveranno il debito e non avranno lavoro. Allora sì che sarebbe un danno per i nostri figli e i nostri nipoti. Stavo interrogando sulla prima parte la sua risposta, ma se ci fosse una classe dirigente che rende meno credibile il debito italiano, la Corte Costituzionale potrebbe intervenire. Lo rende meno credibile con i suoi comportamenti, con le sue azioni? No, decisamente. A meno che questo comportamento e queste azioni si traducessero in violazioni della Costituzione. Cioè, al solito, in comportamenti irragionevoli, comportamenti irrazionali, e allora gli atti che traducono questi comportamenti potrebbero essere censurati dalla Corte Costituzionale. Allora, a Recovery Fund arrivano dei ingenti fondi dall'Europa, c'è una grande discussione su chi li deve gestire. La Corte o la Costituzione danno delle indicazioni in tal senso? Si può desumere dai valori della Corte chi dovrà gestire questo denaro? La Costituzione, l'articolo 97, dice chiaramente che la pubblica amministrazione deve essere improntata a principi di buon andamento e di imparzialità. E il riferimento, ovviamente, è all'amministrazione nel senso più ampio e lato del termine. Quindi sia agli organismi ordinari, sia a quelli straordinari, sia alle procedure ordinari che alle procedure straordinarie. Dal dibattito in corso pare siano emerse due linee fondamentalmente. Una che vorrebbe seguire le procedure ordinarie e utilizzare gli strumenti ordinari dell'amministrazione. Un'altra invece fa ricorso a strumenti e organi straordinari. Personalmente, e qui parlo più che come giudice della Corte Costituzionale, come uomo delle istituzioni e come uomo che ha avuto un'esperienza di amministrazione, perché sono stato capo di gabinetto, sono consigliere di Stato nella mia vita professionale, capo di gabinetto, e ritengo che si dovrebbe valorizzare l'amministrazione, magari potenziandola. Si dovrebbero rispettare le procedure ordinarie, se mai semplificandole. Tutto questo darebbe ben maggiori garanzie di legalità, di rispetto della legalità. Non vaipassarle se hanno dei problemi. Non vaipassarle. Anzi, secondo me, queste disponibilità che abbiamo dovrebbero essere utilizzate proprio finalmente per potenziare l'amministrazione. L'amministrazione è stata gravissimamente depauperata in questi ultimi tempi. Non ci sono più i tecnici nell'amministrazione. Amministrazioni come il vecchio Ministero dei Lavori Pubblici, che avevano una capacità tecnica eccezionale, ora sono ridotte all'impotenza. Questa è la realtà. Quindi è l'occasione per mettere a posto le cose, non per fare il giro largo. Secondo me, sì. Senta, è possibile che tutte queste cose di cui abbiamo parlato vengano normate con questi famosi DPCM? Cioè con un atto... Che differenza c'è tra un DPCM, un decreto legge, una legge? Ebbè, la differenza è profonda. Cioè il DPCM è un atto amministrativo. Quindi è soggetto alla disciplina e procedimentale degli atti amministrativi e ai controlli degli atti amministrativi. Quindi, in parole povere, può essere impugnato davanti ai giudici amministrativi. Dal Tarro, dal Consiglio di Stato. Dal Consiglio di Stato. Può il Governo limitare la nostra libertà con un DPCM? Questa è la domanda che non ci poniamo solamente, che si pongono tutti i cittadini italiani, naturalmente. Ma è una domanda che è stata posta alla Corte Costituzionale. Perché le Corte Costituzionale già pendono due giudizi. Un primo è un ricorso del Stato contro una legge della Regione Val d'Aosta, che ha disciplinato in modo diverso aperture e chiusure. E un altro è un conflitto di attribuzione sollevato da alcuni parlamentari, i quali lamentano appunto che con l'adozione del DPCM è stata lesa la funzione legislativa, cioè la loro funzione. E quindi la loro richiesta è che si affermi che tutta la gestione doveva essere effettuata con norme di tipo primario, cioè con leggi o decreti legge. Quindi la questione dovrà essere esaminata dalla Corte. Lei capisce bene che non posso... Non la possiamo anticipare, però è questione di ore, perché domani... È questione di ore, perché domani... Ecco, quello che posso dire però è che la Corte farà di tutto per intervenire, non solo con chiarezza, e questo spero che sia così, ma anche con tempestività assoluta. Cioè le decisioni saranno prese in un arco di tempo brevissimo, sono arrivate alla fine dell'anno e saranno decise fra febbraio e marzo. Anzi, come lei vedo che è molto informato, come lei giustamente ha detto, un primo esame è già domani, perché lo Stato nel ricorrere contro la legge della Regione Valdosta ha anche chiesto la sospensione della efficacia, cioè un provvedimento cautelare. Proprio per rispondere tempestivamente ho fissato l'esame della domanda di sospensione in tempi brevissimi, quindi già domani ci sarà una prima risposta a tutti i dubbi e le perplessità che lei, direi in rappresentanza dei cittadini italiani... Senta Presidente, fatto sta che questa crisi ha portato al pettine il nodo del rapporto tra Stato e Regioni, al di là di questa specifica vicenda molto spesso c'è stato un conflitto, molto spesso ci sono state delle indicazioni contraddittorie, è un problema aperto quello del rapporto tra Stato e Regioni dal suo punto di vista? Io direi in un certo senso che è un problema che si è riaperto, perché? Perché subito dopo la modifica del titolo V c'è stato un periodo difficile, non ce lo possiamo negare, ed è attestato dall'entità del contenzioso che si è sviluppato tra Stato e Regioni, non che sia facile ripartire le competenze fra Stato e Regioni, ma il titolo V da questo punto di vista non era particolarmente brillante. Ma la situazione si è andata assestando grazie sia agli interventi della Corte, ha fatto chiarezza su moltissime questioni, sia devo dire anche all'atteggiamento poi delle parti, sia lo Stato che le Regioni hanno compreso che la guerra non conveniva a nessuno e che la logica invece imponeva, l'ha sottolineato il Presidente Mattarella, il rispetto della leale collaborazione. Non ha funzionato, o ha funzionato non benissimo, voglio usare un eufemismo in questa situazione drammatica. Un po' per i limiti stessi della leale collaborazione, forse sarebbero necessari strumenti più efficaci e più immediati. Alludo ad esempio a quella clausola di prevalenza che c'è nella Costituzione tedesca, pure una Costituzione realmente federale, non ibrida come la nostra e che permette allo Stato federale di accentrare la gestione di determinate questioni in presenza di dati, di situazioni di emergenza. Una gerarchia serbens. Ecco, sostanzialmente. Presidente, noi stiamo parlando di conflitti formali tra Stato e Regioni, ma abbiamo assistito in televisione a qualcosa di molto più dirompente. Abbiamo visto che il luogo della democrazia americana, del legislatore americano è stato assaltato. Siamo davanti a un momento storico che porta anche a momenti terribili per la democrazia, la democrazia occidentale che ha negli Stati Uniti, la sua versione più autorevole e antica. Che riflessioni l'hanno portata a fare da Presidente della Corte Costituzionale e le cose che abbiamo visto in televisione? Beh, riflessioni sia come Presidente della Corte Costituzionale sia come cittadino, ma devo dire. Perché indubbiamente è stato un evento che, specialmente per chi come me è stato sempre un ammiratore della democrazia americana, è stato sconvolgente, questo non c'è dubbio. È un evento di una gravità inaudita soprattutto per il comportamento del Presidente uscente. Quello è veramente afferito alla sensibilità di chi crede nella democrazia americana. Però poi la mia reazione è stata anche questa, attenzione a non mettere in discussione una democrazia che ha due secoli e mezzo di storia alle sue spalle, che ora invece noi europei stiamo criticando con il sopracciglio alzato. Dimentichi del fatto che noi nella nostra storia, al contrario degli americani, abbiamo avuto il fascismo, il nazismo, il comunismo, il franchismo e anche i francesi hanno avuto la loro vici. La democrazia americana poi tutto sommato ha reagito, ha reagito bene, cioè ha trovato gli anticorpi, per usare una terminologia che ora è di moda in presenza di pandemia. Nel corpo della democrazia americana c'erano gli anticorpi, quelli che si chiamano checks and balances e il primo di questi strumenti è quello giudiziario. In prospettiva significa che una delle garanzie più forti del rispetto sono le corti costituzionali. Questo ecco perché mi ha ispirato anche qualche considerazione come Presidente della Corte, cioè la delicatezza del compito che noi svolgiamo. Senza strafare, senza invadere campi e funzioni altrui, abbiamo però una grande responsabilità. Però ci sono dei paradossi. Twitter censura il Presidente Trump. Può essere che sia la censura la difesa della democrazia? Assolutamente no. Questo è l'ABC della democrazia. La censura è la negazione della democrazia. Ma piuttosto io in questa vicenda vedo un altro problema. Ma è pensabile che uno strumento, degli strumenti come questi sociali, siano gestiti arbitrariamente da privati cittadini? Questo è un problema enorme che sta venendo fuori. Il paragone con il giornale o il direttore o il responsabile di una trasmissione come la sua possa avere le sue idee, fare le sue scelte, quindi anche dei soggetti che debbono intervenire o delle cose da chiedere o delle obiezioni da fare, è una cosa. Ma che in una situazione di monopolio planetario, un soggetto privato, possa intervenire, giudicare e quindi a censurare, io lo trovo intollerabile. Serve un'autorità quantomeno pubblica di ogni Stato, se non immaginare. Senta, l'emergenza abbiamo detto, non siamo in un momento obiettivo di emergenza, non so se giudicamente definibile tale, ma sostanzialmente sicuramente un momento di emergenza. Il governo attraverso un momento difficile, uno dei possibili sbocchi di questa crisi potrebbe essere il voto anticipato, si può andare alle elezioni in un momento di emergenza? Beh, tecnicamente sì, cioè costituzionalmente sì. Di fatto ci sarebbero non pochi problemi di tutela della salute, ma diciamo dal punto di vista costituzionale non vedo un impedimento assoluto. Quali sono i poteri del Capo dello Stato in queste circostanze? Beh, come è noto, il Capo dello Stato ha il potere di sciogliere le Camere, ma sia la logica, direi, del sistema costituzionale, sia la tradizione, hanno delimitato questo potere e precisato quando può essere utilizzato. Cioè in un sistema parlamentare lo scioglimento delle Camere è possibile solo se le Camere non sono più in grado di funzionare, non sono più in grado di esprimere una maggioranza e quindi un governo. Direi che la regola che emerge dalla prassi è questa. Presidente, certo è che lei si trova a fare il Presidente della Corte in un anno veramente particolare e un'emergenza, non so se dal punto di vista giuridico, ma sicuramente da un punto di vista sostanziale sentiamo tutti il peso dell'emergenza. Come si sente ad affrontare questo incarico e quale sarà il ruolo della Corte nel 2021? Beh, che sia un'emergenza anche dal punto di vista giuridico e del ruolo della Corte è evidente. In fin dei conti di che cosa abbiamo parlato fino ad ora? Abbiamo parlato di diritti fondamentali, di conflitto fra diritti fondamentali, di necessità di trovare, di bilanciare i vari diritti. Beh, questo è il terreno naturale d'azione delle Corte Costituzionali. Le Corte Costituzionali, non solo la nostra, ma di tutti i Paesi, proprio di questo si occupano. Sono l'istituzione che garantisce la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. Quindi sicuramente sarà centrale in questa situazione drammatica, come lei l'ha definita, per non dire addirittura tragica, anche il ruolo della Corte. Io sono sicuro però che, grazie ai colleghi, di cui ho già sperimentato, non soltanto la preparazione tecnica che fuori discussione, ma anche la saggezza e l'equilibrio, che sapremo affrontare tutte le questioni di fronte alle quali ci troveremo, appunto con saggezza ed equilibrio, ma anche con la celerità che la situazione di emergenza impone. E questo forse è un po' più compiso specifico mio, quello di garantire la rapidità delle nostre decisioni. Quindi tenendo conto di questo e dei colleghi, tema i quali dovrò decidere, posso dire che sono abbastanza tranquillo. E credo di poter dire che potete stare tranquilli anche voi, insomma, anche i cittadini italiani, che la Corte farà la sua parte. Grazie Presidente, in bocca all'uvo. Grazie, ne ho veramente bisogno. Torniamo in studio per parlare...